ciao amici di vino siamo sempre qui con Cristian per voi degustare degli ottimi vini e oggi degustiamo per voi Pappos 2009 dell'azienda Santa Barbara di Stefano Antonucci un Merlot Cavernet Sirai in parte uguale di ottima struttura perché siamo sui 14 gradi e mezzo e siamo nella zona delle Marche andiamo a vedere che bel colore che ha. Firo io direi un bel rosso rubino intenso gray fitto come attenzione a questo colore molto consistente si e 14 gradi e mezzo si vedono si vedono tutti 14 gradi e mezzo sentiamo che profumi ha ah che meraviglia wow i mirtilli ribes si sente anche una nota di di riquirizzi al naso si degustiamo beh direi che la bocca ritorna assolutamente con il naso direi secco caldo un tannino morbido direi che è anche bello molto buono Pappos in greco vuol dire emozione quindi il mio vino che comunque lo senti da emozione sicuramente sicuramente 14 16 gradi e allora siamo a temperatura un po' elevata in maniera che si apprezzi al meglio servizio cosa ci vuoi mangiare io direi qui ragioniamo con una cosa bella filetto di carne alla vale mazzola filetto di mila in vino ciao sì